Ciao ragazze, sono sempre io, come state? Oggi, scusate, sono un po' rauqua, non fateci caso Recensiremo una cosa bellissima E io, questa cosa mi piace tantissimo E' per questo che ho deciso di comprarla E sono, non mi sono proprio pentita di quello che ho comprato Mi sono scelta perchè è stupenda Non mi sono pentita di comprare questa cosa Perchè è stupenda dentro Poi ci sono anche i disegni tutti ricamati Sono infatti benissimo Oggi recensiremo il fumetto dei poli Allora, qui c'è nella copertina C'è Rim, la sua lettera, c'è i roriti Spai che così, qui che ride Applejack e Twilight con il libro Che sta tirando su Pinkie Poli Con la magia Allora, qui c'è scritto Ma io, come amicizia magica Oggi ci sono frutti tutti i personaggi Qui recensisce tutti i personaggi Come sono tutti Che ci sono in questa storia Allora, che bellissimo Poi qui il spettacolo diventa Nightmare Rarity Spettacolo C'è l'impevanti, molto, molto, molto Il combattono Ma non sono le serie dei cagioni Oh no, lo posso affrontare Ma non sono le serie dei cagioni Per niente Allora, spettacolo Vi faccio vedere un'ultima Ecco la Nightmare Rarity Che dice proprio che si è trasformata Anche se io non l'ho ancora letta Ma lo vedete C'è sui miei altri Ma si è trasformata Poi qui la vision Cioè la fine che combattono Cioè è bellissima E mi sono troppo pentita Adesso ve lo faccio vedere E qui combattono i nuovi Non ho capito Va bene I disegni I disegni poi Soprattutto quello di Nightmare Rarity Sono bellissimi Cioè hanno già detto un pezzettino È bellissimo E vabbè Che stavano parlando dei libri Poi qui dietro ci sono tutte le fotografie Anche se dietro non sembra molto Da prenderselo In un senso che non sembra molto bello Però poi la copertina è dentro È bellissima Prima di prendere un libro Guardate come ho fatto dentro Io l'ho preso proprio apposta Anche perché sono i disegni molto fatti bene Va bene Adesso ci dobbiamo salutare Io devo andare E vabbè Cioè scusate Non sta arrivando Sta guardando il radio Tutto è bellissimo E vabbè Non ho la voce Che bello Siete contenti Cioè spero di no Va bene Questo è il 2 Io non ne ho trovati altri Qui in giro Però l'ultimo Adesso ci dobbiamo salutare Guardate Ecco E' un libro Vediamo Ma è belle Sei così generosa Non so come faremo senza di te O i rari di cui Che ho disperata Vabbè E' bellissimo Sto libro Poi i rari Che fai I ingubi Ma In questa storia Soprattutto c'è Rarity E' benominata Rarity Da tutte le parti Infatti Qua Chi non ce l'è Oh mamma E forse Ah eccole Poi qui la stanno cercando Non so Credo E poi qui si trasforma in Nightmare Rarity Loro sono imprigionate E lei si dice Ah Sono imprigionate da lei I don't want a lot for Christmas Va bene Io mi non lo devo Oltre a parte Che video Già per Di me Ciao ragazzi Iscrivetevi E mi piace E mi piace E mi piace Scrivetevi 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 Ciao Ciao Ciao